Il sistema informativo e i risultati della gestione. Le contabilità sezionali. Cassa, banca e IVA. Di che cosa si occupano le contabilità di cassa, di banca e IVA? Il registro cassa è un prospetto nel quale si riepilogano le operazioni che generano entrate o uscite di denaro contante, inserendo anche la data e la motivazione. Si utilizza per tenere sotto controllo le disponibilità liquide presenti in azienda. Nella prima colonna si inserisce la data nella quale si effettua la registrazione, nella seconda una breve descrizione dell'operazione. Il saldo rappresenta la somma disponibile in cassa in un certo momento e si ottiene considerando l'importo esistente all'inizio del periodo derivante dai periodi precedenti e i movimenti in entrata e in uscita. Vediamo insieme un esempio. Il 1 giugno, la Moretti SNC di Padova ha una disponibilità di cassa di 230 euro. Nei giorni successivi compie le seguenti operazioni. 2 giugno, incassati in contanti 135 euro. 3 giugno, pagate spese di trasporto a un corriere per 67,10 euro. 3 giugno, incassati in contanti 95 euro. 4 giugno, acquistati e pagati in contanti valori bollati per 15 euro. 5 giugno, incassati in contanti 34 euro. 7 giugno, incassati in contanti 86 euro. Presentiamo il registro cassa nel periodo considerato. Inseriamo la disponibilità iniziale direttamente nella colonna Saldo. Poi inseriamo l'operazione del 2 giugno che, essendo un incasso, si registra nella colonna Entrate. Calcoliamo ora il saldo sommando a quello iniziale la somma incassata, euro 230 più 135 uguale 365 euro. Procediamo con le operazioni successive, considerando che le Entrate vanno considerate con segno positivo e le uscite con segno negativo. Per ogni banca presso la quale sono titolari di un conto corrente, le aziende tengono una scheda nella quale registrano tutte le operazioni che avvengono, utile sia per avere il saldo dopo ogni movimentazione, sia per controllare l'estratto conto inviato dalla banca. La colonna Entrate corrisponde agli accreditamenti, versamenti di denaro o assegni, ricevimento di bonifici da clienti e la colonna Uscite agli addebitamenti, prelevamenti di denaro, emissione di assegni, ordine di bonifici a fornitori. Vediamo insieme un esempio. Il 1 settembre, la Pisani SRL di Rimini ha a disposizione sul conto corrente presso Unicredit 1.500 euro. Nei giorni successivi le operazioni sul conto sono le seguenti. 4 settembre, versamento di contanti per 1.200 euro. 4 settembre, accredito bonifico dal cliente Mirelli S.P.A. di 3.050 euro a saldo fattura numero 450. 6 settembre, ordinato bonifico per 2.318 euro a favore del fornitore Anselmi NC SNC a saldo della sua fattura numero 786 del 2 settembre. 7 settembre, addebito fattura per servizi telefonici per 396 euro. Presentiamo il conto della banca Unicredit nel periodo considerato. Inseriamo la disponibilità iniziale direttamente nella colonna Saldo. Poi inseriamo l'operazione del 4 settembre che, essendo un aumento della disponibilità sul conto, sarà registrata nella colonna Entrate. Calcoliamo ora il saldo sommando a quello iniziale la somma incassata. Euro 1.500 più 1.200 uguale 2.700 euro. Procediamo con le operazioni successive considerando che le entrate vanno considerate con segno positivo e le uscite con segno negativo. Dopo l'emissione delle fatture di vendita e la ricezione delle fatture di acquisto, inizia una fase definita di post-fatturazione, cioè successiva alla fatturazione, in cui il contribuente deve soddisfare una serie di addempimenti, ovvero obblighi IVA. Si tratta di effettuare la liquidazione e il versamento dell'IVA. Per assolvere a tali obblighi è necessario la tenuta dei registri IVA. Fra gli addempimenti IVA vi è la tenuta di appositi registri, ovvero documenti obbligatori per ogni titolare di partita IVA, che consentono di riepilogare tutte le operazioni attive e passive ai fini IVA. Essi sono Il registro delle fatture emesse, che riporta l'annotazione di tutte le fatture di vendita di un determinato periodo. In caso di fatture immediate, esse devono essere registrate entro 15 giorni dalla loro emissione. In caso di fatture differite, esse devono essere registrate entro il termine di emissione, il 15 del mese successivo alla consegna della merce. Il registro delle fatture ricevute, che riporta l'annotazione di tutte le fatture di acquisto di un determinato periodo. La registrazione deve essere effettuata prima della liquidazione periodica in cui si esercita il diritto alla detrazione. Nella prima colonna si inserisce la data nella quale si effettua la registrazione. Nella seconda il numero progressivo della registrazione stessa. Per le fatture elettroniche, nel registro delle fatture emesse, la data fattura viene sostituita con la data in cui viene effettuata l'operazione. Vediamo insieme un esempio. Durante il mese di maggio, il fruttivendolo Amico ha emesso alcune fatture di vendita. Il registro delle fatture emesse riporta La data di registrazione Il numero progressivo della registrazione Il numero e la data della fattura Il nominativo del cliente I dati utili al calcolo dell'imposta Imponibile, aliquota e imposta Il totale dell'imposta corrisponde all'IVA a debito Nello stesso mese ha ricevuto alcune fatture di acquisto Analogamente al registro delle fatture emesse, il registro delle fatture ricevute riporta La data di registrazione Il numero progressivo della registrazione Il numero e la data della fattura Il nominativo del fornitore I dati utili al calcolo dell'imposta, imponibile, aliquota e imposta Il totale dell'imposta corrisponde al totale IVA a credito Dopo aver eseguito la registrazione delle fatture di acquisto e di vendita, si può procedere con la liquidazione dell'IVA, ovvero alla determinazione di un eventuale debito verso lo Stato, pari all'ammontare IVA da versare. Eventuale perché il contribuente potrebbe vantare un credito verso lo Stato In sede di liquidazione dell'IVA si deve calcolare la differenza fra IVA a debito sulle vendite, IVA esigibile, in quanto lo Stato ha diritto a esigerla dal contribuente, e IVA a credito sugli acquisti, IVA detraibile, in quanto il contribuente ha diritto a sottrarla, ovvero a detrarla dall'IVA a debito. Se l'IVA a debito è maggiore dell'IVA a credito, la differenza rappresenta un debito IVA il cui importo dovrà essere versato allo Stato. Se l'IVA a credito è maggiore dell'IVA a debito, la differenza rappresenta un credito IVA verso lo Stato di cui tenere conto nella successiva liquidazione dell'IVA. Vediamo insieme un esempio. Il fruttivendolo amico procede alla liquidazione dell'IVA tenendo conto di quanto segue. Dal registro delle fatture emesse risulta un IVA sulle vendite, cioè un IVA a debito di 15.000 euro. Dal registro delle fatture ricevute risulta un IVA sugli acquisti, cioè un IVA a credito, di 11.480 euro. In sede di liquidazione dell'IVA, il 16 giugno successivo, si avrà IVA a debito di 15.000 euro, meno l'IVA a credito di 11.480 euro. Il debito IVA da versare è di 3.520 euro. Il fruttivendolo amico ha un debito IVA di 3.520 euro verso lo Stato, quindi dovrà versare tale somma all'erario, in quanto l'IVA a debito, IVA esigibile, è maggiore dell'IVA a credito, IVA detraibile. Se gli importi della situazione appena descritta invece fossero IVA sulle vendite di 15.000 euro e IVA sugli acquisti di 19.000 euro, in sede di liquidazione dell'IVA avremmo IVA a debito 15.000 euro, meno l'IVA a credito di 19.000 euro. Il credito IVA sarebbe di 4.000 euro. La modalità di liquidazione dell'IVA prevede due possibili regimi, quello dei contribuenti ordinari, quello dei contribuenti minori. L'individuazione del regime da applicare dipende dal volume d'affari, ovvero dalla somma dell'ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti compiute in un anno. In particolare, i contribuenti minori possono scegliere se effettuare la liquidazione dell'IVA mensile oppure trimestrale. In questa ultima ipotesi, l'importo da versare viene maggiorato dell'1% a titolo di interesse, poiché il pagamento è posticipato. Vediamo insieme un esempio. Se il fruttivendolo amico optasse per la liquidazione trimestrale e durante un certo trimestre risultassero i seguenti dati, IVA sulle vendite di 25.000 euro e IVA sugli acquisti di 15.000 euro, in sede di liquidazione dell'IVA si avrebbe IVA a debito di 25.000 euro meno l'IVA a credito di 15.000 euro, il debito IVA da versare sarebbe di 10.000 euro. Aggiungendo l'interesse dell'1%, l'importo complessivo da versare sarebbe di 10.100 euro. I termini per la liquidazione dell'IVA sono In caso di liquidazione mensile, il 16 del mese successivo al periodo di riferimento. In caso di liquidazione trimestrale, il 16 del secondo mese successivo al periodo di riferimento, per il quarto trimestre entro il 16 marzo successivo. Il versamento dell'IVA va effettuato entro la stessa scadenza della liquidazione, utilizzando un apposito modello messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, il modello F24. Riepilogando. Il registro cassa è un prospetto nel quale si riepilogano tutte le operazioni che generano entrate o uscite di denaro contante, inserendo anche la data e la motivazione. Si utilizza per tenere sotto controllo le disponibilità liquide presenti in azienda. Per ogni banca presso la quale sono titolari di un conto corrente, le aziende tengono una scheda nella quale registrano tutte le operazioni, per avere il saldo dopo ogni movimentazione e per controllare l'estratto conto inviato dalla banca. Durante la fase di postfatturazione si effettuano la liquidazione dell'IVA e il versamento dell'IVA. Per assolvere a tali obblighi è necessaria la tenuta dei registri IVA, registro delle fatture emesse e registro delle fatture ricevute. Con la liquidazione IVA, che prevede il regime dei contribuenti ordinari e quello dei contribuenti minori, si determina un eventuale debito verso lo Stato pari all'ammontare IVA da versare. IVA a debito sulle vendite, IVA esigibile, meno IVA a credito sugli acquisti, IVA detraibile. IVA a debito sulle vendite, IVA,